Santa, un popolo immenso era davanti a San Pietro e grande era il tripudio della gente a San Pietro, solennemente il Papa entrava, saliva all'altare e tutto il mondo era là attraverso i teleschermi, la televisione, noi siamo qui, siamo non molti, non c'è fasto, c'è soltanto un poverissimo stensorio che speriamo di cambiare perché è troppo piccolo, e l'ostia bianca, l'ostia bianca è sempre la stessa, quella di San Pietro e quella di qua è la stessa ostia, il fasto è diverso, la luce è diversa, la moltitudine è diversa, ma tu sei sempre lo stesso, Signore tu mi dici una parola, tu credi che miriadi di montoni e di agnelli sacrificati, io guardo con più compiacenza, tu pensi che le moltitudini delle gente accrescono il mio amore, la mia soddisfazione, oh Israele impara da me quelle che ti dico, non è nella moltitudine che io mi deletto, ma nel cuore umile e contrito, nel cuore umile io mi deletto, la stessa gioia che io provo quando le moltitudini mi acclamano, la provo quando sono poche persone che mi offrono il sacrificio di rode con cuore puro. non guardo la moltitudine, non guardo il fasto, non guardo miriadi di montoni e di agnelli sacrificati, non guardo il fasto della terra che nebri nei vostri occhi, io penetro nei cuori e mi deletto del cuore, e il deletto che trovo in poche persone lo trovo in moltitudini di persone. Io voglio la sincerità del cuore, mi basto un cuore solo che mi adori nella sincerità, che mi adori nella verità e nell'amore. Signore, noi siamo qui e vogliamo adorarti nell'esemplicità del cuore, nell'umiltà dello spirito, ma nell'ardente amore del nostro cuore. Gesù, gradisci questa offerta, l'offerta della nostra fede, così spoglie di apparati, l'offerta del nostro amore. Non è molto quello che ti offriamo, è ben poca cosa, ma gradisci, oh Signore, la sincerità dell'offerta e guarda l'umiltà delle tue serbe, della tua serva. L'odio e gloria a te, Signore. Grazie a te, Signore. Farò restare in mezzo a te un popolo umile e povero, confiderà nel nome del Signore. È una delle espressioni più belle del Vecchio Testamento, che prelude al Nuovo Testamento. Noi siamo un popolo umile e povero rimasto qui, fedele al Signore, questo popolo che confida non in sé stesso, ma nel nome del Signore, cioè nella persona del Signore. Signore, noi siamo poveri ed umili, poveri spiritualmente, non abbiamo grandi virtù, non abbiamo che la povertà del nostro peccato, delle nostre miserie quotidiane, ma questo noi ci possiamo offrire, come Girolamo, nella grotta di Bethlehem, che si batteva il petto e chiedeva al Signore, Signore, che cosa vuoi ancora da me? Ho lasciato tutto, ho lasciato Roma, le mie amicizie, la mia cattedra, i miei studi, ho soltanto qui i miei libri per interpretare le scritture, non ho niente, nessuno, e tu dicevi, Girolamo, non mi hai dato tutto, non mi hai dato quello che è tuo, ma hai dato le altre cose che non sono tue, ma io voglio quello che è veramente tuo, e Girolamo non sapeva cosa dare, e Gesù disse, dammi il tuo peccato, quello è veramente tuo, dammi il tuo peccato, le altre cose non sono tue, tu le usi, tu le hai vute in dono, ma quelle che tu produci di tuo, è il tuo peccato, dammi il tuo peccato, o popolo umile, povero, o fratelli e sorelle, tutti siamo poveri, non abbiamo niente, ma tutti abbiamo il nostro peccato, piccolo o grande che sia, tutti abbiamo il nostro peccato, prodotto da noi, unicamente da noi, non ci è stato donato, dagli altri, non ci è stato dato da Dio, né dagli altri, ma noi lo abbiamo prodotto, dentro di noi, ed è questo peccato, che Gesù vuole, questa mattina, perché è su questo peccato, che gli esercita, il suo potere, è questo peccato, che lui vuole redimere, vuole distruggere, per manifestare la sua gloria, e la sua potenza, e tutti abbiamo, un peccato da offrire, fratello, sorella, non dire che non è niente, hai il tuo peccato, puoi essere anche povero di quattrino, puoi avere poca cosa in casa, puoi avere anche un marito cattivo, una moglie cattiva, puoi avere un figlio disobbediente, puoi avere poca messerizia, puoi avere debiti soltanto, ma il tuo peccato, non te lo toglie nessuno, offrile a Gesù, è lui che lo vuole, per distruggertelo, perché è il tuo peccato, che ti opprima, ed è dire di Dio, offrimi il tuo peccato, perché io ti offro in cambio, il mio amore, la mia misericordia, la mia luce, la mia pace, il mio amore, la mia vita, dammi la tua morte, e io ti darò la mia vita, che non tramonta mai, dammi le tue tenebre, io ti darò la luce, dammi il tuo astio, il tuo rancore, io ti darò l'amore, dammi te stessa, io darò me stessa a te, io sono il tuo Dio. Mi ho fatto entrare nel mistero, nel mio amore, e nel mistero dell'iniquità, ascolta la mia voce, e vivrai, cantiamo come meglio possiamo, cantiamo come meglio possiamo, cantiamo come meglio possiamo, Dio. Fammi sentire la tua voce, sorella e sposa. Fammi sentire la tua voce, povera. Meschina di Salorna, io mi diretto della tua voce e del tuo canto. Io ho lasciato il canto degli angeli per ascoltare il canto degli uomini. Com'è bello il canto degli angeli in cielo, ma è mio diretto di stare con i figli degli uomini e ascoltare il loro canto. Com'è bello il vostro canto, così povero e così disadorno, ma che porta l'eco del canto del cielo. Io trovo il mio cielo in mezzo a voi. Cantate, cantate come meglio potete. Voi siete un povero ed umile popolo. Voi avete l'ambra povere, cuore povero. Poche note, ma io mi diretto del poco. Io amo la povertà vostra, per questo mi sono fatto povero. Cantate nella vostra povertà. Sillabate nella vostra libertà, i figli di Dio, e datemi il vostro cuore in questo momento, il vostro cuore che canta. Ecco, Vittoria, tu cos'hai da dire al Signore? Sei una povera creatura. Tu, Anna, sei una poverissima creatura. E voi tutte, chi più chi meno siamo poveri e poveracci. Ma il Signore è qui in mezzo a noi, è il nostro Salvatore. Si compiace degli umili, dei poveri, dei nullatenenti, di coloro che non possono dare molto, che non possono sfoggiare grandi cose. Si compiace di noi, come si compiacque dei pastori. Si compiacque dei magi, quando si prostrarono davanti a Lui, perché tutto si prostra davanti a Lui. Diamo al Signore quello che abbiamo, quello che abbiamo. Il Signore si contenta di quello che abbiamo, perché il Signore è venuto per noi. E sentiamoci al nostro agio. E preghiamo con fiducia. Preghiamo con fiducia. Ecco, si sentono poche testimonianze. In mezzo a noi di guarigione. Ieri sera a Marcefaraci c'è stata una bella testimonianza di una guarigione. Si tratta dell'allungamento di una gamba. È una cosa un po' fuori dell'ordinario. L'allungamento di una gamba di una ragazza. Ancora deve fare delle cure, perché tutta era trappita. I medici avevano preparato un'operazione difficilissima. Ma il Signore è intervenuto e c'è stato un riflesso spirituale nella madre che sbraitava nel padre che ormai crede. Per cui c'è stato un riflusso spirituale. Ma il Signore ha prolungato una gamba. Ed è una cosa fuori dell'ordinaria. Però altre guarigioni il Signore fa. Ma qui non vediamo quasi più nessuna testimonianza. Eppure il Signore fa grazia. Fa grazia spirituale di cui noi non apprezziamo il valore. Vale più un atto di dolore per un peccato commesso che il prolungamento di una gamba. Vale più una, così, una rescissione da una situazione peccaminosa che il prolungamento di una gamba. Vale più una pacificazione tra le due famiglie che si odiavano che il prolungamento di una gamba. Comunque noi dobbiamo essere sensibili a quello che fa il Signore perché la mano del Signore non si è accorciata. Qui una supplica di una sorellina è graziosa perché è tutta spontanea. Caro Gesù, guarisci a Maurizio Maria Ripari. Guardi, guariscilo, 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 grazie Gesù. Ecco, è una bella preghiera perché sgorga dal cuore. Non ci sono tanti fronzoli, niente. Si vede il cuore di questa creatura che si rivolge con confidenza a Gesù. Caro Gesù, caro Gesù, guarisci a Maurizio. Guarisci a Maurizio. Poi guariscilo, 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 grazie Gesù. Una bella invocazione, semplice, ma vera. Il Signore ama le cose vere. E quante di queste truppiche, così vere, così toccanti, ci sono in questi cestini e Gesù li gradisce perché non vuole fronzoli il Signore, vuole la verità, l'essenziale. O Signore Gesù, io ti offro le suppriche di questi nostri fratelli e sorelle e ti offro anche tutto quello che è scritto in questi elenchi. Ma in questo momento, Signore, gradisci l'offerta nella nostra poca fede, nel nostro poc'amore. Gradisci il nostro debole canto. Guardisci le nostre povere preghiere e quelle che noi abbiamo. I pastori non ti offriranno grandi forme di formaggio o grandi cose, ma quel poco che avevano, anche noi ti offriamo per quel poco che abbiamo e tu certamente gradisci il dono perché il vero dono è quello del cuore. Se sei preoccupato per il tuo pancreas, il Signore ti tocca e tu migliorerai la tua tenuta, notevolmente. E per una persona, non so, che soffre un po' al pancreas. In questo momento, ti presentiamo tutte le angustie nostre, quelle personali e quelle familiari. Deseriamo che questi ultimi due giorni dell'anno, siano i giorni in cui la tua grazia scende sulle nostre famiglie. Soprattutto grazie di pacificazione perché tante famiglie ancora non sono riconciliate. Grazie di ritorno a te. Fa che i mariti ritornano in casa. Fa che le moglie ritornano ai loro mariti. Fa che i figli ritornano ai loro genitori. Signore Gesù, sono le grazie che noi ti chiediamo in questo momento. Ti chiediamo, Signore, un rifugelio per tutti gli ammalati che sono nelle nostre case, nel nostro ospedale. Signore, ti chiediamo queste 48 ore di rifugelio, di pace, di serenità, prima di entrare nel grande anno del venire. Padre Santo, Padre Buono, Padre Misericordioso, per il tuo figlio Gesù che è qui presente, ti suppliciamo, largisci queste grazie e il tuo Gesù strappo dal male del Padre. In questo anno del Padre che sta per finire tutte quelle grazie che ancora lui non ha concesso e si avrebbe voluto concedere. Signore Gesù, la tua benedizione scende su tutto l'anno nostro. Quanto abbiamo sofferto in quest'anno, quanto abbiamo patito in quest'anno. Signore Gesù, perdona tutti i nostri peccati, tutti i nostri addori e dà tutta la consolazione di venerci visitati da Te, benedetti da Te e guariti da Te. O Gesù, benedici questo popolo, benedici le nostre famiglie, dai miei frigeri a tutti gli ammalati, vicini e lontani. O Gesù, un raggio della tua luce, illumina le menti di coloro che sono ancora nelle tenebre, un raggio del tuo cuore, muova i cuori nostri, i cuori indoliti e porta in tutti la pace. Questa mattina ti invitiamo a chiedere la pace per noi, per tutte le nostre amiglie, per il nostro gruppo, per le nostre panorchie e per tutto il mondo. grazie a tutti. Grazie a tutti.